Ciao ragazzi, eccomi qui per il video unboxing con Kim, saluta Kim, fai ciao con la zantetta, Kim ho formato Zubeka, ecco sta scatenando, allora hanno rotto il The One di Zedda 34 Heroes, dove è l'ora di provarlo, questo contenuto, questa schedina di gioco, vediamo se mette a fuoco, dai metti a fuoco, cattivo bambino, vai, ok ha messo a fuoco, abbiamo i manuali, i soliti della vertenza, non c'è niente di particolare, questo è il dietro, si può giocare online, si può giocare spettacolare, poi 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 vorrei vedere proprio con l'imbraccio come faccio a farlo in unboxing, già mi si è aperta, ti paremo, allora, ragazzi, Assassin's Creed Syndicate con la statua, questo è il contenuto che troveremo, è caduta la coperta, scusate, la sovracoperta, eh con Kim non è facile fare un unboxing ragazzi, è un macello, questo è quello che c'è dentro, allora, come faccio, non farò da così, ecco, si è andato, non è male, no, dopo, non ti per l'imbraccio papà, allora, togliamo la sovracoperta, che è questa, sovracopertina, poi mi sa che si apre così, bella, ragazzi, è vuoto, guardate, magia, magia, vuoto, che spettacolo, guardate la sta, guardate la sta, te lo farei seguito che sono emozionato, madonna quanto è figa, eccola qua, mamma mia, mamma mia, ragazzi, e si aggiunge alla mia sesta statua di Assassin's Creed, delle Collector, eh, Giacob, la sto sbustando, ragazzi, non è bella, di più, ma più legata qua, guardate, guardate, che scappava, che scappava la Giacob, domani, finalmente, ragazzi, saluto la Fra Free, Marcus88Xbox1, saluto il mio socio Gavi, Miki, Bonilla, CNTV, Stela, Demo, Vicio, saluto tutti i ragazzi, mi dico di salutarli, ragazzi, l'appoggio per terra, il cartone perché mi faccio più spazio, vi faccio vedere la sta, mamma mia, che figata, oh, guardate, questo sarebbe da tenere così, sinceramente, guardate che figata, cioè, cioè, sarebbe da appoggiare lui, infatti mi servono così, e tenere, vedete, lui ha appoggiato si binari, cioè, lui è, non è bello, è bellissimo, spero che renda giustizia la cam, facciamola vedere, vediamo, c'è la luce, guardate i dettagli, guardate, lui è fighissimo, questo non c'entra niente, questo è il dietro, guardate, quei dettagli, veramente fa paura, ragazzi, non so se sono numerate, che cosa, Assassin's Creed Syndicate, non sembra di no, guarda, guardate, il viso di lui è spettacolare, no, sta cadendo tutto, no, guardate le mani, ah, ma, guardate, il binari, è spettacolare, è bellissimo, bellissimissimissimo, poi qua c'è un vano, devo aprire, c'è il gioco, Special Edition, gioco gioco, poi, poi abbiamo la soundtrack, dovrebbe essere la colonne, le colonne sonore, ok, leggiamolo qui, poi abbiamo, spettacolare, sembra fatto in metal, ma non lo è, adesso lo faccio vedere, non sa che la tengo a parte questa fa, perché è bellissima, allora, abbiamo, la mappa gigantesca, cioè, guardate, la mappa gigantesca, guardate, questa è la mappa, di Londra, London, bellissima, fatta bene, cartonato, guardate, indietro, la cuscia del whisky, eh, bellissima la collezione, poi abbiamo un artbook, che non mi spallevo niente, lo faccio così, basta, 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 è visto troppo, non voglio spallevare niente, andiamo a aprire il gioco, che ha dei contenuti bonus, questa, sono qua, che non mi faccio di certo vedere, allora, allora, vediamo un po', vediamo che domani, nell'unione, ci sono tante belle offerte, allora, tre assassini, tre viaggi, un solo credo, sindacate, andiamo a qualche codice, questo è il libretto di istruzioni, e qua ci sono i codici, come le faccio vedere di certo, e sì, questo è il season pass, che non c'è dentro, dovete prendere la parte, eh, e questi sono i codici per queste missioni, ho queste due missioni qua, in più, dentro, nella custodia, a parte il cd, che è spettacolare, guardate, guardate il dietro qua, bellissime le statue, saranno altre due statue, lei e lui, che le prenderò sicuramente, in più, da prendere, scusate, possiamo vedere meglio, eccola qua, questa qua, che uscirà, spero presto, e che voglio, bellissima, e, 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 che dire, hanno detto che è molto più bello di tutti gli Assassin's Creed, che sono usciti finora, che è diverso, vediamo bene, ragazzi, niente, questa era l'unboxing della, limited edition di, di Assassin's Creed, con la statua, con Jacob, eh, Rotto Day 1, ragazzi, Rotto Day 1, Rotto Day 1, anche di Zelda, Triforce Heroes, eh, che dirvi, ragazzi, noi vi salutiamo, e salutiamo anche Emu, salutiamo Alex and Albi, che sarebbe Mulare, poi salutiamo Samuel, Fabio, saluto le mie sorelline, i miei fratellini, i nipoti, i pronipoti, e, saluto Andrea Lucenzi, e poi, e poi, saluto un ragazzo che mi ha detto, mi saluti nel sicuro, adesso l'ho assoluto a vedere nel video, ragazzi, sono contentissimo che continuate a seguirmi, continuate, saluto Valerio Cart, saluto Salvatore, Nicola Dima, e Jonchi, Samuel, la mia dolce metà, e tutti i ragazzi che continuano, ragazze, a seguirci, a commentare, a mettere un bel mi piace, e siamo a 1.490 iscritti, spero di arrivare a 1.500 iscritti presto, io vi saluto, saluto il mio socio, saluto Nicolato Scano e detto le sigle d'intro, saluto tutti, io e lui vi salutiamo, io e Jacob, mettiamo anche Kim, formato statuetta, adesso prenderò un altro Jubeka, Kim, detto Kim, che è più scuro di carnagione, ma diversamente comunque, fatto veramente bene, ragazzi, lo sto guardando, ed è veramente bello, 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 non rende giustizia, è bello, fatto tutti i minimi dettagli, il bastone, veramente, è spettacolare, adesso lo metterò là sopra, però non ci sta più niente, usciamo noi, e che altro divi, ci vediamo domani alla Ghost Week, ragazzi, mi raccomando, io avrò una maglietta nera, con scritto Andrea dietro i due Gamer Brothers, poi darò le due magliette al mio socio, così anche lui se la metterà, e ci vediamo domani, spero di incontrarmi tanti, non c'è problema ragazzi, fermatemi, se volete fare una foto con me, io avrò solo che piacere conoscermi, ciao belli, ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sempre presenti, ciao belli, alla prossima!